Gennaro Valerio, titolare di un'attrazione di una giostra di Montesilvano a Francavilla per lavorare dopo aver ricevuto un'autorizzazione per sistemare la giostra qui a lungomare di Francavilla in occasione della festa di Blue Bar. Cosa è successo Gennaro? Io sono stato invitato di un certo Maurizio che è un comitato festa dicendo che non ci sono nessun problema, abbiamo visto il posto insieme, tutto a posto, siamo stati in comune, il comune ha accettato la richiesta del comitato festa e così è andato avanti per 10 giorni di seguito, 20 giorni di controllare, di vedere e noi siamo venuti ieri con l'attrazione, ci hanno rimandato via dicendomi che qua non è possibile di lavorare. Con la giostra. A questo punto sono stato in comune, ho chiamato il sindaco, il sindaco non c'era, ho chiamato il maresciallo e poi è tornato il sindaco. Abbiamo parlato di più di meno, il sindaco ha detto soltanto che tu qua non puoi montare, arrivederci, buona giornata. Io adesso mi ritrovo, che sono ritornato con l'attrazione, mi ritrovo bloccato con 500 euro da conto e 500 euro di rimanenza che le dovevo dare ieri, mi hanno mandato via. Sto rintracciando questo Maurizio dicendomi che io i soldi te li ho lasciati in ufficio, vatele a prendere, ciao ciao. Io adesso mi trovo qua a piedi con due famiglie, la mia e i miei figli. Non sappiamo adesso sei giorni dove lavorare. Sindaco, allora qui c'è un giostraio che chiede di lavorare, vuole lavorare, ma gli è stato impedito, lui ha detto, di sistemare la giostra qui sul lungomare. Insomma, qual è la verità? La verità è che mi fa sorridere, perché la verità è che ci sono gli uffici, ci sono le domande da fare, ci sono le autorizzazioni da ottenere, in questo caso questo giostraio non mi risulta, almeno a me personalmente, che abbia fatto per tempo la sua domanda. Non è stato sicuramente autorizzato dai nostri uffici comunali e quindi ieri si è presentato per montare la sua giostra, gli è stato detto che non poteva farlo, molto semplice, un semplice rispetto delle regole. Poi lui sta insistendo, non ho capito a che titolo, la cosa non mi riguarda, certo è che la giostra qui non la può montare. E se valesse la regola che ognuno fa quello che vuole, beh, allora potrebbe venire qualcuno domani mattina in Piazza Sirena e dire no, non fate il Blue Bar ma monto la mia giostra, non lo so. È possibile trovare una soluzione? Beh, in questa forma sicuramente no, perché non è che accettiamo forzature da parte di nessuno, tantomeno da questo giostraio e quindi noi siamo tranquilli nel rispetto delle regole, certo che è sempre possibile trovare una soluzione. Tra l'altro ieri mi sono trovato a parlare perché ero in Comune e gli ho detto, guarda, vediamo per le prossime occasioni, vediamo un po' come fare. Lui si è intestardito su questa cosa e vabbè, ognuno fa quello che vuole nella vita.